La testimonianza è quella che sta cercando Raffaele e Lauro attraverso i racconti dei servizi che l'hanno vissuto più di dubbi. Come torna a succedere probabilmente si farà in chiarenza come è nata questa canzone, dove è nata, come è stata scritta, perché è stata scritta, perché è stata dedicata a Sorretto. E nell'anno, come ci ha visto essere previati come città dell'Arcoglia, io penso che forse lui ha dedicato questa canzone, perché lui è stato accorto dai sottotitini a Sorretto. Cinque anni fa, come ho detto prima, l'intervista alla RAI è arrivato a Sorretto, è stato accorto dalla famiglia di Annussi. E così quest'anno cercheremo, oltre questo momento di ricordo, cercheremo di creare un evento in autunno con la presentazione del libro di Raffaele e Lauro e con la presentazione di questa mostra fotografica e multimediale, in modo che vedremo, solo con luce, da come ha trascorso i suoi anni di quando è arrivato a sapere di quanto è l'ultimo. Questo evento non sarà l'ultimo, neanche il primo, ma sarà l'inizio di un percorso che ci sarà insieme a questa fotografia, non sarà l'ultimo, perché il progetto è un progetto ammizioso che dobbiamo annunciare e che certamente farà conoscere sempre di più la nostra città nel mondo legato alla sua canzone, legato alla sua storia, come città turistica. Lucio Dalla, prima, purtroppo di morire, lo ho sentito due giorni prima proprio con Angelo Puglione, per invitarlo a una mostra che valai organizzata a Villa Fiorentino, dicendomi che purtroppo non è riuscito a venire, ma sarebbe ritornato per un altro evento. L'amore di Lucio Dalla, certamente non sono io qui che lo posso testimoniare, ma ci sono tanti sovrimini che veramente hanno avuto dei rapporti particolari e che fanno parte della storia della nostra città. Io sono sicuro che con questo libro e con tutte le altre iniziative, insieme a voi li alizieremo per Lucio, faremo onore alla sua storia, alla sua moglie, alla nostra città e daremo un contributo alla crescita della nostra città. Grazie. Grazie. Grazie.